eccoci qui amici di safe drive per la terza e ultima parte di questa settimana e questa volta beh cambiamo argomento cambiamo un pochino rotta ma lo facciamo con grande interesse grande passione e direi anche tanta curiosità intanto passiamo dalle quattro le due ruote entriamo nell'ambito motorsport e iniziamo a parlare di road racing le corse su strada cosa sono molti di voi lo sanno sicuramente magari qualcuno però ancora no ma lo saprà alla fine di questo studio naturalmente e abbiamo con noi e la ringrazio giochiamo in casa questa volta dalla redazione di safe drive marta covioli ciao marta ciao andrea e ciao a tutti allora marta lascio a te raccontare insomma però ci siamo rivolti proprio a te perché per anni con grande competenza con grande passione interesse hai raccontato proprio questo mondo in varie forme insomma quindi direi che sei la persona assolutamente ideale per portarci iniziare a esplorare questo mondo sì grazie andrea come sempre gentilissimo sì è vero perché per tanti anni quasi una decina d'anni ho gestito quello che era l'unico sito italiano interamente dedicato alle corse su strada ovviamente in tanti ne parlano nel bene nel male però ecco con il mio sito cercato di dare uno sguardo veramente a 360 gradi su tutte le road races o quasi perché perché non esiste solo il tt dopo avremo modo di parlarne ce ne sono tantissime quindi per tutti questi anni ho cercato davvero di raccontarle spiegarle con non solo report di gara ma anche tanti approfondimenti interviste ai piloti e non solo invitando anche i piloti qui in italia piloti soprattutto d'oltremanica con degli eventi ad hoc insomma cercando di fare un po di cose interessanti spero e al momento il sito che lo ricordo si chiama roadracingcore.com è fermo perché insomma per mancanza di tempo l'ho un attimo accantonato le pagine social ci sono ancora e parlarne invece mi piace sempre ovviamente. Ma la passione quella è sempre accesa però è assolutamente connessa possiamo possiamo dire senti andiamo un po per ordine no cercando di rivolgerci anche a quelli che sono proprio i neofiti di questo mondo perché è vero che molti piloti moto team sono legati ad altre realtà anche le competizioni su pista però sostanzialmente cosa sono le corse su strada? Sì hai detto bene safe drive in particolare si occupa di quattro ruote oggi parliamo di due ruote e due ruote veramente di nicchia perché le corse su strada o roadracing sono veramente una disciplina motoristica molto di nicchia esistono tante corse su strada la principale è il tourist trophy dell'isola di Mann e poi un po per ordine ci sono le corse su strada nord irlandesi come l'Alster Grand Prix la Nord West 200 e poi Macao Grand Prix in Cina che probabilmente molti conoscono al pari del TT sicuramente avrete visto qualche video con le moto che sfrecciano in questo stradale strettissimo tra le barriere gialle nere sicuramente famoso magari non si conosce il nome ma lo avrete visto. Beh lì c'è la commissione però con le auto con le auto sì perché in effetti li corrono soprattutto soprattutto le auto a Macao e poi tantissime piccole corse su strada nazionali in Inghilterra in Irlanda ma anche negli Stati Uniti anche in Italia perché c'è il CIVS ovvero il campionato italiano velocità in salita però cosa sono le corse su strada lo dice il termine stesso sono corse di moto su strade normalmente aperte al traffico che per l'occasione vengono chiuse e messe per quanto possibile in sicurezza sono corse legali ci tengo a sottolineare perché tanti dicono sono quelle corse dei pazzi no no quella è un'altra categoria assolutamente da rinnegare legali riconosciute dalla federazione insomma riconosciute e ufficiali quindi niente di insomma diciamo così illegale da fuori di testa poi magari ci torniamo sull'argomento sì perché magari poi ecco ti volevo chiedere un po come vengono affrontate queste competizioni però ripeto andiamo magari un po per ordine facciamo il quadro il più chiaro possibile grazie a te sicuramente è possibile allora dicevamo moto quali moto perché adesso abbiamo anche delle bellissime immagini che stanno scorrendo vediamo moto fantastiche naturalmente si capisce siamo livello superbike cilindrate decisamente importanti però so che comunque nelle road race il panorama è molto ampio sì esatto allora le immagini che vediamo sono immagini della gara principale in questo panorama che è il turistrofi dell'isola di man come dicevo prendendo come esempio questo che appunto la più conosciuta la più diciamo così anche un po più commerciale diciamo ci sono svariate categorie si parte dalla categoria superbike dove i team principali possono davvero permettersi di utilizzare delle mille con specifiche superbike poi ci sono dei team privati che corrono con le mille superstock sempre nella classe superbike ma va benissimo quindi superbike e senior tt che sono gli highlights che vediamo in questo momento sostanzialmente è la stessa categoria non cambia nulla la superbike apre l'evento turistrofi il senior tt lo chiude della gara delle gare però è diciamo così la stessa tipologia di classe poi ci sono le superstock mille ci sono le super sport quindi i 600 le super twin che sono delle bicilindriche fino a 700 cc e poi ci sono i sidecar fino a qualche anno fa c'era anche la gara del tt 0 al tt ovvero le elettriche che però sono state cancellate per mancanza di afflusso è chiaro anche guardando le immagini si capisce insomma che ovviamente la condizione a livello di gestione anche fattore rischio sicurezza evidentemente non può essere non è e non può essere quella che ritroviamo solitamente in pista e insomma si sente spesso chiacchierare attorno alle road race comunque le gare su strada da questo punto di vista cosa ci puoi raccontare cosa ci puoi spiegare ma sicuramente le corse su strada sono demonizzate da più parti dai media perché anacronistiche perché poco sicure allora innanzitutto io prendo sempre come esempio il turistrofi il turistrofi partiamo dal presupposto che è una corsa di 4 o 6 giri ed è lunga 60 chilometri al giro quindi una sorta anche di endurance se vogliamo detto questo come si fa a mettere in sicurezza un tracciato di 60 chilometri un tracciato che per il resto dell'anno poi è aperto al normale traffico è praticamente impossibile che cosa si utilizzano i cosiddetti air fence contro i muri i pali della luce molto spesso in alcuni tratti vengono addirittura addirittura tolti i cartelli stradali quindi per evitare un impatto pericoloso però chiaramente non si può mettere totalmente in sicurezza un circuito così lungo soprattutto non ci sono le vie di fuga che ci sono in pista questo è chiaro per cui ciò che si è fatto dal 1907 anno in cui è nata questa competizione in avanti sicuramente sono stati passi da gigante ma per quanto possibile però detto questo chi decide di correre all'isola di man come in altre road races lo fa per volontà personale libera scelta non si è obbligati a correre e quindi il pilota che decide di correre ci sa benissimo cosa va incontro sa benissimo i rischi che corre non siamo più negli anni fino agli anni 70 quando c'era l'obbligo di partecipare a corse come il tt o l'alster grand prix perché facevano parte del campionato del mondo quindi se un pilota non voleva perdere il mondiale doveva per forza partecipare il classico esempio di giacomo agostini forse in italia quello più celebre no sì giacomo agostini che ha vinto svariate volte al tt e al quale è stato tra l'altro dedicato proprio un tratto del tt che si chiama ago slip che è un punto in cui ci sono dei bellissimi monoruota e lui ai tempi dava proprio spettacolo ecco negli inizi degli anni 70 un carissimo amico di agostini gilberto parlotti morì al tt da lì agostini si mise veramente di traverso nel vero senso della parola e si mise appunto a capo di questa rivolta contro l'obbligato l'obbligatorietà delle corse stradali appunto come parte di un campionato del mondo e da lì a pochi anni furono appunto tolte dai dei campionati senti hai parlato del titi senior titi ma comunque insomma un tracciato che è molto lungo effettivamente quindi richiede anche penso una preparazione particolare evidentemente diversa naturalmente non facciamo confronti con quella della pista ma una preparazione credo specifica davvero molto molto accurata perché va bene il rischio però bisogna anche affrontarlo in maniera corretta mentale e fisica appunto credo si è detto benissimo mentale e fisica più mentale che fisica perché se andiamo a guardare un po' i piloti che partecipano all'aerodresi di sicuro non troviamo dei fusti dei fisici no assolutamente esatto fitness praticamente pari a zero al di là di qualche pilota che invece viene soprattutto dal bsb british superbike championship che quindi sono davvero piloti professionisti però se prendiamo piloti come john mcguiness o michael dunlop per fare due nomi che magari qualcuno conosce di sicuro non sono l'esempio proprio di di atleta ecco quello che conta sicuramente è stare tanto in moto stare tanto in sella perché come detto prima è un tracciato lunghissimo 60 chilometri al giro per sei giri per il signor titi quindi ecco questa questa capacità di stare tanto in moto sicuramente ci vuole ma soprattutto ci vuole la capacità mentale di stare concentrati per così tanto tempo e soprattutto la conoscenza del tracciato questa è la regola d'oro per partecipare al tt in generale a tutte le road races la conoscenza del tracciato quello che mi piace sottolineare che non ci si sveglia al mattino dicendo io vado a correre al tt perché vado forte in strada con la mia moto assolutamente no ma nemmeno magari perché sei anche un pilota professionista ma non hai esperienza di road race esattamente esattamente bisogna entrarci in punta di piedi nel road race come si affrontano i piloti ultimamente utilizzano tanto la playstation giocano tantissimo i videogiochi sono ormai hanno ormai raggiunto un livello di realismo che ti permettono davvero di imparare un tracciato come quello del turistrofi poi andare all'isola di mani il più possibile guardando anche on board confrontandosi con gli altri piloti come abbiamo accennato prima come si fa ad arrivare a correre al tt innanzitutto bisogna presentare un'iscrizione con un proprio curriculum che deve essere di un certo tipo altrimenti nella maggior parte dei casi si viene mandati a fare il manx grand prix che è una gara un po più amatoriale che si svolge ad agosto sempre all'isola di man sullo stesso tracciato per cilindrate invece fino al 600 diciamo di sicuro non i mille oltre a questo bisogna presentare sei risultati ottenuti in sei gare riconosciute dalla federazione questo perché per dimostrare di essere in attività quindi una serie di caratteristiche che sicuramente allontano venendo a conoscenza di tutto questo ci allontanano da quello stereotipo del pilota del tt che è un fuori di testa la mattina si mette il casco decide di lanciarsi un aspetto molto interessante perché poi gli appassionati è vero che è di nicchia ma gli appassionati sono comunque tantissimi anche in italia è facile è possibile andare a seguire il tt come come si fa perché poi insomma non è non è il fatto di raggiungere un pianto un autodromo una pista bisogna raggiungere un posto specifico l'isola di man non gigantesca c'è tanto pubblico quindi è una cosa fattibile fattibilissima con largo anticipo bisogna programmare il viaggio al tt con mesi di anticipo addirittura i pochi hotel dell'isola sono sempre prenotati di anno in anno infatti io consiglio sempre classici bed and breakfast con un po di spirito di adattamento ci sono anche tanti campeggi per chi vuole rischiare di dormire in tenda al freddo e all'acqua perché questo è il clima non dico costante dell'isola ma quasi però c'è anche qualche campeggio un po sui generis un po più comodo i glamping sì sicuramente un po più comodi diciamo che magari aiuta un po no chi stava perdendo sì sì la speranza no assolutamente non è complicato andare all'isola di man in moto prendendo il traghetto in aereo facendo scalio in inghilterra poi arrivando direttamente con un volo all'isola di man non è complicato bisogna solo muoversi con largo anticipo quindi parlo di mesi ma soprattutto programmare almeno una settimana perché stare all'isola di man due o tre giorni non serve a niente perché innanzitutto se piove se è umido se c'è nebbia magari anche solo sul mountain non si corre quindi si rischia di andare lì e non vedere niente e poi soprattutto l'isola di man il tt ok non è solo la gara non è solo l'evento è tutto il contorno il contesto un'isola bellissima un sacco di appunto eventi di altre piccole competizioni quindi io consiglio veramente di passarci una settimana e godersi tutto dalla alla z ma se non voglio farti tartassare sui social però se seguite marta magari pubblichi sempre cose bellissime diciamo quindi vale anche la pena il futuro di queste competizioni o il loro stato di salute attuale è quello che poi vedi invece guardando da qui in avanti ma lo stato di salute varia tantissimo da gara a gara mi sento di dire che il tt avrà lunga vita ma non è così forse per le piccole national irlandesi faccio degli esempi dei nomi che magari qualcuno interessato le va a cercare cookstown tandragis carris e queste sono davvero delle road race piccolissime che si svolgono nell'arco di un weekend un tempo ai tempi di joy dunlop che di fino al 2000 davvero la la road race era l'appuntamento della famiglia ogni weekend adesso invece si contano sulle dita di due mani nell'arco di tutta la stagione vengono meno perché per problemi di budget ovviamente le assicurazioni costano sempre di più e sostanzialmente ci sono sempre meno iscritti sempre meno pubblico sempre meno interesse questo però non tocca al turistrofi purtroppo invece tocca quella che è considerata la regina delle road race irlandesi ovvero l'alster grand prix che è la road race più veloce al mondo che per l'ennesimo l'ennesima stagione è stata cancellata appunto per problemi di budget però ecco mi sento di dire che la gara delle gare il tt avrà lunga vita soprattutto al di là di qualsiasi demonizzazione di qualsiasi critica oppure di qualsiasi volontà di abolirle come si sente dire da più parti soprattutto in italia e non nel regno unito dove c'è una mentalità completamente diversa una cultura diversa riguardo a queste competizioni finché ci saranno piloti che lì ci vorranno correre volontariamente le road races ci saranno sempre adesso continueremo a goderci questo fantastico spettacolo anche se posso se posso aggiungere marta covioli la saluto naturalmente grazie marta per essere stata con noi e grazie questo bellissimo racconto magari chissà potremmo anche tornare successivamente a parlarne anche qui a safe drive per quanto mi riguarda invece l'appuntamento come sempre con safe drive è per la prossima settimana e grazie di essere stati con noi